Giulia Salemi ha un piccolo problema. Non si capisce la sensazione di dolore. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno deciso di trascorrere ieri in visita a Firenze. I due innamorati hanno postato decine di foto su Instagram per mostrare ciò che hanno realizzato nella città toscana, non nascondendo di essere davvero ipnotizzati dalla sua bellezza. Tuttavia, a un certo punto, Giulia Salemi ha confessato di aver sofferto un forte dolore ai piedi a causa delle scarpe che aveva scelto quando camminava per le strade fiorentine. Per questo è corsa in albergo a cambiarsi, sono venuta a cambiarvi perché voi ragazzi non riuscite a capire il dolore che provo. Giulia Salemi ha poi colto l'occasione per lanciare un monito ai tifosi, cattiva idea. Infradito in giro, Pierpaolo Pretelli prende in giro Giulia Salemi. Mai uscire con lei. Più tardi, Pierpaolo Pretelli ha deriso Giulia Salemi. Infatti, nel video postato dall'influencer, in cui confessa di essersi cambiato le scarpe per cause di forza maggiore, ha voluto subito fare una battuta sarcastica. Non sono mai uscito con Giulia. Salemi. E poi, chi aspettava la madre di Fariba fino a tardanotte dopo la finale sull'isola, ha subito risposto gentilmente al suo ragazzo, pronunciando senza esitazione le seguenti parole. Ma lo fai davvero? Visto che ti ho dato tanta fiducia, me la tolgo subito. A quanto pare Pierpaolo Pretelli scoppiò subito a ridere, e poi aggiunse, si vede come si sente oggi Pierpaolo. Particolarmente, Giulia Salemi chiarisce. Siate certi che vi ho letto. Giulia Salemi ha poi chiesto cosa ci fosse a Firenze. E per i suoi fan che si chiedono se legge i loro consigli, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli vuole subito un chiarimento. Ho letto e ascoltato i tuoi consigli. Stiamo organizzando la giornata anche seguendo i tuoi consigli. E infatti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno passato una bella giornata.